I vaccini danno effetti collaterali a breve termine, ma non danno mai effetti collaterali a lungo termine. Gli effetti collaterali dei vaccini, proprio anche guardando la storia della vaccinologia, è chiaro come questi si manifestino in tempi estremamente rapidi dopo la vaccinazione. Nel momento in cui c'è l'inoculo potrebbe esserci un edema, un arrossamento della cute, del sito di inoculo, oppure la febbre che molto spesso vediamo in questi giorni come effetto collaterale dei nuovi vaccini. Sappiamo quindi che i vaccini danno effetti collaterali, possono dare effetti collaterali a breve termine, ma non danno effetti collaterali a lungo termine. Da questo punto di vista sono estremamente sicuri. Grazie.